Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Empires Mobile Allora so purtroppo che da un po' che non registro nessun video ma non perché sono assente o perché non ho voglia di farli ma semplicemente perché non so cosa portarvi attualmente come contenuti perché purtroppo il gioco è tra virgolette bloccato bloccato che vuol dire? Nel senso che non mettono niente di nuovo non si può fare niente, non esce Nuovo Regno, non esce ancora purtroppo sul Play Store tutte queste cose qua, quindi purtroppo per il momento tra virgolette siamo bloccati in quello che è la solita routine del gioco quindi entrare, truppare, raccogliere risorse, potenziare gli eroi sempre le solide rose, la solita routine del gioco così si dice e purtroppo non posso farvi vedere niente di aggiuntivo potrei farvi un video sugli eroi ma voglio aspettarvi per farvi un video sugli eroi in generale perché voglio farvi un video sugli eroi nello specifico quindi parlarvi uno ad uno di quello che fanno come portarli su eccetera ma lo voglio fare praticamente nel prossimo regno ok? Quando farò l'alleanza questo perché? Perché posso farvi rivedere man mano che li sblocco quello che fanno che risulta anche più facile per voi capire in che momento portare su gli eroi e con quali tipi di abilità convenga poi a quel punto portar su in base anche sempre alla situazione che c'è nel regno naturalmente però in linea generale la situazione dovrebbe essere stabile diciamo così dovrebbe poi non si sa mai ciò che succede quello che voglio darvi come aggiornamento su questo video è praticamente che questo regno è agli sgoccioli quindi da quello che suppongo essendo un regno agli sgoccioli in teoria tra qualche giorno dovrebbero aprire il nuovo regno e dovrebbero da quello che ho capito anche rilasciare il gioco ho chiesto informazioni mi sono informato e hanno detto che in linea generale tra qualche giorno dovrebbero rilasciare il gioco due giorni fa o ieri adesso non ricordo esattamente quando hanno fatto un nuovo aggiornamento è uscita la patch 1.0.21 di aggiornamenti però non è cambiato niente non hanno risolto bug non hanno cambiato praticamente le risorse non è stato introdotto niente non c'è niente di nuovo non c'è niente di più gli umani non sono ancora stati introdotti queste due nuove strutture che sono state introdotte praticamente tre patch fa non cambiano niente sono sempre là bloccate ma posso dedurre che la prima qui a sinistra più vicina al muro suppongo serva per costruire le trappole nel muro e questa qui a destra vedendo da come è fatta la struttura suppongo serva per produrre gemme non produrre che come se fosse una fattoria quindi come queste ma bensì che produca gemme un po' come negli altri giochi quindi che ne so ne metti mille e dopo 30 giorni te ne dà tremila ok suppongo sia una struttura del genere ad ogni modo ad ogni modo questo è quello che voglio dirvi perché ripeto non vi posso aggiornare su nulla se non su queste due cose che vi ho già detto perché vi ripeto il regno questo qui è agli sgoccioli come potete vedere è quasi finito tra 14 ore rilasciano praticamente tutta quanta la nebbia di guerra quindi la nebbia che si trova nel regno e in teoria ci sarà la possibilità di vedere anche gli altri regni non so sinceramente come perché nella mappa da come abbiamo potuto sempre vedere non c'è un tasto per andare a visualizzare gli altri regni magari verrà introdotto proprio quando questa cosa praticamente finirà non so con dopo probabilmente dopo la fine di questo penultimo evento quindi di prosperità come possiamo leggere c'è scritto proprio la lotta perché il potere non finisce mai il trono chiama quindi da come sto capendo io e da come stanno capendo anche gli altri giocatori di questo regno se abbiamo capito bene ci sarà praticamente un KVK che in questo caso sarà un regno 1 contro il regno 2 quindi il nostro non so bene esattamente come funzioni e se ci sarà effettivamente un KVK non voglio dare nulla di affrettato però c'è questa possibilità anche se mi sembra abbastanza stupida come cosa se devo dirvi la verità perché ci sono soltanto due regni possiamo vedere che questo qui se lo clicchiamo c'è scritto adesso lo andiamo a vedere insieme un palazzo controllato dei demoni alla fine di questo capitolo sia che l'obiettivo sia stato raggiunto o meno Arturo 3 e i demoni nel palazzo al centro del regno percepiranno il pericolo e cominciano a diventare irriquieti i giocatori possono attaccare il palazzo a gruppi dopo 24 ore il palazzo deve essere collegato al territorio dell'alleanza prima di poter essere attaccato io non so esattamente cosa sia ok questo palazzo perché non ne ho la benché minima idea purtroppo non ci sono video al riguardo neanche su youtube specialmente in italiano in questo caso perché non c'è nessuno oltre a me che fa video in italiano ma ad ogni modo non c'è nessun video al riguardo per quanto riguarda la lingua inglese naturalmente non bisogna andare a mettere a vedere neanche altre lingue perché non mi interessa però ad ogni modo non ho trovato nulla che riguardi questo palazzo in dei video su youtube quindi non non capisco esattamente come funzioni e come possiamo vedere poi dall'ultimo evento quindi giustizia e pace c'è proprio occupa il palazzo come alleanza al termine quindi praticamente per ricevere questi bonus bisogna occupare il palazzo al termine di questo diciamo di questo di questo evento e infine c'è scritto e ora di porre fine al governo tirannico di Arturo 3 quindi probabilmente ci sarà questo palazzo che non so probabilmente esponerà random vicino nella mappa non ne ho idea non parliamo del palazzo principale del regno perché purtroppo cioè purtroppo nel senso non è quello perché già è stato effettivamente conquistato quello quindi non è non parliamo di quel tipo di di palazzo c'è scritto palazzo centrale ma non so sinceramente se si riferisca a questo adesso vi faccio vedere ma non credo perché ripeto già è stato effettivamente conquistato quindi non credo si riferisca a questo palazzo perché questo si chiama salone divino quello c'è scritto proprio palazzo quindi non non ne ho idea non credo si riferisca quello e non so ripeto come spawn questo palazzo e vi do anche altri aggiornamenti per quanto riguarda il regno attualmente noi siamo prima gilda nel regno e siamo praticamente contro la seconda la terza e attualmente è la quinta quindi contro i dom contro gli one e contro la dsq perché da quello che ho capito sempre si sono alleati per poterci sconfiggere non so se poi quella loro alleanza vada a buon fine perché ragazzi parliamoci chiaro è un gioco di guerra quindi di buono non va mai a finire niente quando si tratta di guerra né nella realtà né nei giochi quindi appena possono secondo me verranno poi così dire pugnalati alle spalle dalle altre gilde ad ogni modo il loro tre potere sommato non fa il nostro quindi tutto sommato dovremmo riuscire a tenere il passo contro loco tre contro le tre gilde speriamo bene perché potrebbe essere un problema se riescono poi a fare quell'obiettivo che noi non riusciremo a fare ad ogni modo qui ci sono anche altri eventi come eventi di alleanza questo qui in questo caso che noi siamo primi ma non c'è proprio paragone con le altre alleanze cioè secondo me neanche ci stanno provando a raggiungerci proprio perché siamo proprio su un altro livello ah io di mio non ci ho messo nulla perché non mi va neanche di starci a perdere tempo ad andare a fare queste cose cioè ragazzi c'è veramente tantissima storia da farci dietro e siccome dovrò prendercene tanta nel futuro regno qui non lascio fare a loro tanto ci sono quelli che shoppano fanno tranquillamente loro specialmente per quanto riguarda gli eventi proprio alleanza non non mi ci impegno neanche poi più di tanto io sono arrivato a 5 milioni da come volete vedere ho perso in totale un bel po' di truppe circa 30-40 mila truppe tra ieri e l'altro ieri perché sono andato ad attaccare due player che mi hanno dato circa 60-70 milioni di risorse non avrei potuto farlo perché c'è una sorta di pace di regno però non mi fregavo un cavolo e ci sono andato lo stesso mi servivano le risorse e solo andando ad accoglierle non riesco a a produrle mi sono morti un po' di truppe però anche loro gli hanno uccise tra tutti e due i player che ho attaccato gli ho ucciso più di 200 mila truppe tra T3 e T2 quindi mi accontento nel senso di quello che no T3 non ne avevano erano soltanto T2 perché non erano neanche castelli di livello 17 però vabbè ci accontentiamo di aver perso quelle truppe che tanto attualmente non vengono utilizzate perché non guerro cioè non faccio war quindi prendete risorse e portate su le altre strutture adesso sto cercando di portate sul castello a livello 22 perché così se sbloccate la quinta marcia che mi serve più che troppe andate a cogliere più risorse e qui tutte le altre strutture le ho portate in generale quasi tutte quante al 18 tranne qualche minita d'oro che sono qualcuno al 13 qualcuno al 14 e qualche ospedale è qui che questo è al 16 questo è al 15 e questo è al 14 avrei voluto portarli tutti quanti al 18 però visto che ho tutte queste risorse ho preferito investirle per far più velocemente il castello di livello 22 così ripeto da poter bloccare poi la marcia vi faccio giusto anche un breve check up sulle mie hanno rotto le scatole sulle mie ricerche ho portato l'architettura e la ricerca accelerata al massimo quindi ottimo perché così abbiamo il boost sulla la produzione cioè sulla velocità di ricerca e sulla velocità di costruzione al massimo mi è rimasto praticamente soltanto per quanto riguarda la raccolta insomma questa roba qua che muo piano piano poi si porta su e mi sto specializzando un po' di più adesso dopo che ho finito naturalmente quelle cose nelle ricerche su su praticamente la guerra perché se se dovesse venire fuori questo kvk devo essere pronto e quindi sto cercando di diciamo di recuperare un po' se così posso se così posso dire ecco e nulla ragazzi allora vi lascio qui perché non voglio non voglio trattenervi oltre perché il video altrimenti uscirebbe troppo lungo quindi ragazzi spero che il video vi sia stato utile che vi sia piaciuto scusatemi ancora se sono stato un po' stante in questi giorni probabilmente il prossimo video se non ci sarà niente di importante sarà proprio quello riguardante la nuova uscita del regno o l'uscita del gioco in futuro perché ripeto non so cosa portarvi quindi chiuso questo aggiornamento io vi ringrazio come sempre della visione e noi ci vediamo in un prossimo episodio ciao